Salve a tutti da Arpapi, da Bella e dal nostro piccolo Pupo. Tu dici perché io ho Pupo in braccio oggi? Perché i ragazzi stanno venendo a prendere Pupo. Pupo vivrà qui vicino a noi ed è uno dei tre cuccioli di Similabrador che è stato trovato nella zona di Priverno, vero? Pupo dillo un po', dove stavi in mezzo a una strada, stavi in mezzo a un campo, dove mamma ti aveva partorito e adesso invece questo sarà solamente un ricordo. perché poi siamo arrivati noi, ti abbiamo messo in salvo, gli sto a raccontare tutta la storia perché quando è successo lui era piccolino, capito? Quindi ti abbiamo messo in salvo e adesso sei qui nel nostro rifugietto e qualcuno proprio ti ha scelto perché ha detto ammazza che bello quel Pupo, io vorrei proprio quel Pupo dentro casa e abbiamo fatto tutte le procedure, affido, preaffido e tra poco, cara mamma, mi dispiace, ma verranno a prendere Pupo. Quindi dagli gli ultimi bacetti, dagli una bella pulitina così almeno io lo damo bello che è sistemato, lo sento proprio i dentini che grattano sulla capocetta del piccolo Pupo. Ragazzi, un'altra partenza, un misto sempre di gioia e tristezza perché quando va via un pelosetto va via un pezzetto del mio cuore ma siamo contenti. Dobbiamo augurare tutti quanti una buona vita al nostro Pupo che andrà a vivere proprio qui vicino a noi, sempre in provincia di Latina, quindi continueremo a vederlo per il resto della sua vita perché continueremo sempre a stare in contatto, vedremo quando diventerai grande. Sei bello Pupo, sei proprio bello, guarda che pacioccone. Il nostro Pupo sta per partire. Italia a quattro zampe. Come sempre, anche oggi, la voce di tanti pelosetti del mondo. Il nostro Pupo sta per partire.